Signore e signori, fagiolino per voi indovina tutte le verdure del libro. Allora, fai tu dai. Cos'è quella? La pannocchia. Poi, qual è la più grossa? Come si chiama? Il carciofo. Poi, quella? Qual è che mangia Billy? Questa qui. No. Questa qui? Sì, come si chiama? Carota di Billy. Carota di Billy. E quella? Come si chiama quella? I zuccheri. La zucchina. La zucchina è questa? No, la zucchina è questa. E quell'altra è il cetri? Questo qui è il cetriolo. Cetriolo. Sei molto bravo a leggere, lo sai? Che faccia fai? Leggi, leggi. Dai. Ma va di fuggire. Come? Come? Dove vai? Ma come la-la-la-la-la-la? Ma cosa fai lì?